Ciao, io sono Orange Alex e oggi vi mostrerò una nuova MOC. Mangiare al ristorante della LEGO House è un'esperienza particolare. Al Mini Chef Restaurant i pasti vengono consegnati da due robot, Robert e Roberta. Così ho deciso di racchiudere questa esperienza in una MOC e grazie a un concorso su LEGO Ideas da settembre la vedrete esposta proprio alla LEGO House, fino a settembre 2021. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.